Nel fine settimana sulla regione affioranno correnti più secche, provenienti da nord-est, in particolare sabato. Quindi, per la giornata di sabato avremo cielo sereno sotto la regione, con bora da moderata sostenuta sulla costa, dove le raffiche potranno toccare i 70-80 km orari a Trieste. Sul Tarvisiano al mattino sarà possibile della nuvolosità, che poi in giornata si dissolverà. Poi in giornata la temperatura ovviamente salirà, portandosi intorno ai 10 gradi su pianura e costa. Minime intorno allo zero in pianura, intorno ai 4-5 gradi sulla costa. In montagna ovviamente temperature più basse. Per quanto riguarda domenica, cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla regione, probabilmente anche sereno sulla zona di costa, specie zona Trieste, dove al mattino ci sarà ancora un po' di bora, che poi verrà sostituita dalla brezza. Temperature minime di domenica intorno ai 2-3 gradi sotto zero in pianura, poi in giornata la temperatura risalerà intorno agli 8 gradi, come anche sulla costa. Sulla costa le minime saranno intorno ai 2-3 gradi positivi. Ben più basse invece le temperature di fondo valle di montagna, che si avvicineranno ai meno 10. All'inizio della prossima settimana il tempo peggiorerà per l'arrivo di due fronti atlantici, che però dovrebbero solo interessare marginalmente la regione, senza portare precipitazioni molto consistenti. Dall'Osservatorio Metodo Regionale dell'Arpo, un saluto da Marcellino Salvador.